I Covenant credono che il Silent Cartographer sia nel sottosuolo di quest'isola. Il Cartographer è una sala delle matte che ci condurrà al centro di controllo. L'isola ha molte strutture e installazioni. Una di queste contiene la sala delle matte. Atterraggio imminente! Non sarà una passeggiata! Prepararsi ad attaccare! Atterrati! Forza Marines! Dai, dai, dai! Grazie a tutti! Sembra che ci sia un sentiero che porta all'interno dell'isola. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Scommetto che in sala il Cartographer è dentro quella struttura. I Covenant stanno resistendo come da noi. Il Cartographer deve essere qui. La mia analisi indica che la sala delle mappe si trova al piano inferiore. Procediamo verso l'interno. Impediteli di chiudere le porte. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.